Ciao amici di Prepper.it e bentrovati in un nuovo video. Andiamo anche questa volta a fare la review di un'altra torcia perché la Votacical ha deciso di mandarmene un'altra. Una nostra amica ci ha scritto tempo fa chiedendoci un modello di torcia che potesse essere un po' più portatile e un po' più semplice di quelli che abbiamo visto prima. Non so se è scritto la Votac, non so se si sono sentiti o se è stata semplicemente telepatia ma la Votac ha a questo punto prodotto la A3 che è la sorrellina minore dei modelli che abbiamo visto in precedenza. È la sorrellina minore perché guardandoli si notano un sacco di particolari del design che sono gli stessi, in particolare sulla prima parte dello chassis del corpo della torcia. La parte che cambia invece è quella da cui viene emessa la luce. È un po' più piccola, è un po' più maneggevole, è un po' più semplice da utilizzare è potente esattamente quanto le altre sue due sorelle maggiori. Tra le differenze che ha però rispetto ai modelli che abbiamo visto in precedenza c'è il fatto che non ha l'accensione messa sul fondo ma bensì con lo stesso pulsante che utilizziamo per andare a organizzare le modalità diverse di emissione possiamo anche andare direttamente ad accentere e a spegnere la torcia. Questo la rende un attimino più facile da utilizzare perché abbiamo bisogno di utilizzare uno switch soltanto. Abbiamo una potenza di 600 lumen, abbiamo la possibilità di farla cadere, evitiamo magari, da un metro e mezzo d'altezza senza che vada a subire ingenti danni e ha un fattore di impermeabilità IPX4 che vuol dire che può sostenere schizzi d'acqua, eventualmente anche rimanere un attimino bagnata ma non divenire completamente immersa a lungo tempo nell'acqua. È comunque dotata di un paio di o-ring di ricambio per l'impermeabilizzazione oltre che della clip per portarla alla cintura. Se vi ricordate il primo video che ho fatto, probabilmente ricorderete che ho fatto degli accenni al fatto che questa marca in particolare era molto simile, aveva molti punti di contatto con marche un po' più prestigiose. Bene, sulla scatola oggi possiamo andare a vedere che hanno messo che il supporto tecnico per queste torce è offerto niente po' di meno che dalla True Night. Siccome l'hanno detto loro per primi, io a questo punto non devo farmi più problemi a dirvi che se il supporto tecnologico è fornito dalla True Night vuol dire che tendenzialmente stiamo parlando di modelli che potenzialmente sulla carta hanno le stesse performance, la stessa qualità però escono da una linea di produzione parallela ecco perché il costo alla fine delle torce in questo caso è decisamente più conveniente. Andiamo a vedere un attimino più da vicino a questo punto come funzionano. E questo qui è il contenuto della confezione della A3 ovviamente abbiamo la torcia, tanto per cominciare ovviamente come negli altri casi abbiamo il manuale di istruzioni un set di o-ring di ricambio per renderla impermeabile e il cavo per l'alimentazione e ricaricare direttamente la batteria perché la batteria è uguale a quella che abbiamo per la A1 e la A1S e la clip che è quella che viene montata sul corpo della torcia il corpo della torcia come vediamo assomiglia moltissimo a quello delle sue sorelle maggiori la parte che cambia di più è quella del diffusore che come vediamo praticamente è conica ed ha verso l'esterno altra cosa che si nota subito non c'è il pulsante di accensione sulla parte posteriore ma è tutto quanto confluito nel pulsante di controllo quindi in questa versione il pulsante di controllo fa anche l'accensione quindi in questo caso si preme una volta per accenderla si spegne e il modo per passare le diverse modalità e le diverse funzioni è quello di continuare a tenere premuto quindi tenendo premuto lei fa tutto quanto il suo ciclo delle varie potenze dopodiché se mi interessa ad esempio quello più potente lascio quando arrivo a quel livello lì schiaccio di nuovo lunga pressione voglio quella semplice e arrivo giù schiaccio un'altra volta e spengo c'è l'altra possibilità anche di fare il doppio clic nel momento in cui faccio il doppio clic all'inizio va subito in modalità di massima potenza un altro doppio clic e passa in modalità strobo la parte del diffusore può scorrere leggermente avanti e indietro quindi se vedete già qua sulla luce che proietta la differenza è quindi che questa qui è zoomabile cioè ci dà la possibilità di stringere il fuoco della luce o di allargarlo quindi a seconda della zona che dobbiamo andare a illuminare semplicemente andando ad agire su questa parte qua del diffusore è possibile andare a modificare il tipo di cono di luce che viene proiettato anche in questo caso all'arrivo quando la smontata prima volta sembra che non funzioni perché qua ci sarà un piccolo dischetto di plastica che basta togliere che serve per di fatto fare da isolante fra la batteria e il contatto posteriore io ovviamente l'ho già tolta anche in questo caso vi faccio vedere che la batteria è analoga a quella delle sue sorelle maggiori quindi qui c'è l'attacco per ricaricare la batteria stessa direttamente è una funzione interessante può piacere, alcuni si trovano meglio con il caricamento fatto direttamente dalla torcia però c'è la possibilità di andare a caricare direttamente la batteria con un qualsiasi adattatore a muro per cellulare qua direttamente sul polo positivo c'è all'interno un led che lampeggia nel momento in cui stiamo andando a caricare la batteria e ci dà l'indicazione del livello di carica quando è arrivato al 100% o quando sta ancora caricando beh, come vedete l'utilizzo è molto semplice sono molto versatili hanno la capacità anche di regolare il fascio di luce quindi ampliarlo e di restringerlo a seconda dell'utilizzo che dobbiamo farne però io per mettere veramente questa torcia alla prova ho deciso di darla in mano a uno di quelli che secondo me è uno dei prepper più promettenti che ho in circolazione in questo periodo e vediamo un attimino come se la cava 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 lo so, lo so, lo so, lo so, vi sento già, mi state dicendo ma come, io mi aspettavo Bear Grylls, mi aspettavo Le Straut, qualcun altro di veramente e invece c'è una bambina di due anni attenzione, questa cosa qui è un po' tricky ma ve la spiego stiamo parlando di prepping quindi c'è di mezzo il discorso di fare un'attività che sia un'attività per famiglie nella famiglia ci sono anche i bambini quindi secondo me è importantissimo mettere tutti quanti i membri della famiglia in condizioni di essere in grado di utilizzare le nostre attrezzature e di capire soprattutto che il corretto utilizzo di queste attrezzature può risolvere delle situazioni problematiche soprattutto stiamo parlando di parenting, prepping ai massimi livelli se ci pensate, praticamente stiamo dicendo che possiamo prendere una bambina molto piccola e darle uno strumento, insegnarle a usarlo fin da subito e soprattutto farle capire che probabilmente non ha senso avere paura del buio perché c'è la possibilità di muoversi al buio di vedere che al buio non ci sono i mostri sotto il letto o altre cose di questo genere e questo viene dalla capacità di utilizzare in maniera corretta degli strumenti no vabbè e poi vuoi mettere il fatto che comunque non ti svegli a mezzo la notte perché hai paura beh, quante ore di sonno risparmi bene, quindi abbiamo visto che la Wagtact S3 è una valida alternativa ad altri modelli sul mercato è particolarmente conveniente e quindi alla fine non dice perché andare a spendere più soldi in magari prodotti che fanno esattamente la stessa cosa vi lascio il link dove potete trovarla qua sotto e concludo ricordando che ovviamente una torcia è uno strumento molto semplice che è estremamente versatile e che dovrebbe sempre far parte di un EDC e di un kit perché ci si può trovare in situazioni di buio oltre che normalmente durante la notte anche in situazioni quali ad esempio in metropolitana o altre situazioni del genere dove avere a disposizione una luce può fare veramente la differenza bene, anche per questo video è tutto vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao